e siamo arrivati cari amici di border nights il momento uno dei momenti dei momenti quello di collegarci con barbara marshan bentornata grazie mi piace momento dei momenti adesso non esageriamo io vado in onda a notte fonda chi mi ama mi segua e devo dire che mi seguono veramente in tanti grazie comunque a tutti gli ascoltatori che riescono a rimanere svegli vabbè che poi il giorno dopo c'è il podcast quindi va tutto bene io questa sera parlerò di qualcosa che esula dalla puntata dall'argomento della puntata di oggi ovviamente perché io mi preparo di settimana in settimana con degli argomenti che mi stanno a cuore che piacciono a me ma che spero piacciono anche agli altri anche soltanto per stimolare per un piccolo momento il momento di questo salotto stimolare la loro fantasia la loro voglia di magari di conoscere perché io parto dalla curiosità che ho io quindi mi auguro che gli altri siano curiosi perché comunque lo scopo della vita cioè se tu non sei curioso sei già morto allora io questa settimana parlerò della paura vabbè adesso mi dirai la paura è tosta sì ma è una paura molto particolare dettata dalle vostre letture almeno immagino che sia così ed è una piccola indagine sulla città che ha fatto riflettere un grande autore un autore che ha ricevuto da barack obama per esempio la national medal of arts massima onorificenza americana per un artista questa sera mi destreggerò anche in pronunce americane o meno perché ci sarà una libera scelta della della pronuncia sia del personaggio che della città da dove è nato allora il personaggio si chiama haiti o it come preferite ed è uno dei classifi del terrore più amati di tutti i tempi e dove nasce it haiti nasce in una cittadina un'anonima cittadina sul fiume penopscot che si chiama bangor o bangor perché ci sono più pronunce anche lì dove vive questo questo signore il più grande degli scrittori viventi è stato definito ed è steven king allora da anni steven king vive e lavora in questa cittadina nel cuore di del maine dove è nato e ha ambientato gran parte dei suoi romanzi per arrivare a bangor bisogna attraversare in macchina tutto lo stato dalle coste atlantiche alle foreste dell'interno sembra di essere alle porte di un universo selvaggio e quasi ostile a uomini civilizzati un luogo che si è praticamente incapaci di dominare e dove forse sopravvivono solo delle presenze molto arcane in attesa che poi se voi andate lì in macchina che la macchina vi si guasti e che il cellulare non abbia campo perché questo sarebbe il massimo del del romanzo horror attraversando bangor mentre scende il crepuscolo e poi il buio il fantastico si mescola con il reale e allora è il momento che si avverte quel qualcosa di inquietante e storto di cui il buon king racconta nei suoi libri ambientati nella periferia povera di un'america in cui i sogni non si realizzano quasi mai quindi è stato molto aiutato dalla città in cui è nato e vissuto bangor rappresenta derry l'emblema dei suoi romanzi nelle case abbandonate e anche fatiscenti negli abitanti tanti cupi e malvestiti fermi sulle verande a fissare il vuoto con una birra in mano e un barbecue devastato alle spalle bene si ritrova quel genere di posto da cui si desideri fuggire subito e senza mai tornare in cui king è riuscito a portarci con i suoi romanzi allora steven king vive in una enorme villa rossa affacciata su una delle poche strade salvabili di bangor e praticabili soprattutto e dicono quelli del posto che sottoterra sia ancora più grande allora che cos'è una promessa o una minaccia allora ritorniamo a hit di steven king è l'ultimo romanzo che è di nuovo uscito recentemente quest'estate a luglio è una storia che non vi racconterò ovviamente però venne scritta a bangor fra il 9 settembre dell'81 e il 21 dicembre dell'85 steven king aveva già pubblicato carrie le notti di salem l'ombra dello scorpione la zona morta curo e pezzi materi aveva dimostrato così che poteva terrorizzare i lettori con storie di telecinesi di vampiri di epidemie di preveggenza di animali rabbiosi di morti che ritornano bene con hit o haiti come volete rivelò che il romanzesco è la verità dentro la bugia riflettete bene su questa frase che è importantissima la verità è dentro la bugia e la verità di quel romanzo è semplice la magia esiste allora hit venne pubblicato nell'86 negli Stati Uniti e solo un anno dopo in Italia oggi viene reeditato ve l'ho detto da quest'estate in un'edizione che precede l'uscita in America dell'adattamento cinematografico del regista argentino Andres Muschietti che ha deciso di dividere in due film la storia di King così come in due periodi quello che va dal 57 al 58 e quello dal 84 al 85 dove è ambientato il libro la pellicola ha superato i 500 milioni di dollari di incasso ai bottecini di tutto il mondo perché nel frattempo è uscita ed è diventata in tre settimane soltanto l'horror con gli incassi più alti di tutti i tempi battendo il primato che per 44 anni si era tenuto stretto reggetevi bene l'esorcista fermo a quota 441 milioni fanno sognare tutte queste cifre Stephen King chiarifica come il rapporto con l'orrore cambi a seconda dell'età e come gli incubi mutino nel tempo tutto il romanzo è giocato sulle reazioni allo spavento che hanno i protagonisti e sul fatto che il terrore non ha la stessa forma per tutti fateci caso la paura secondo King spesso è qualcosa di molto personale ma io aggiungo sicuramente è qualcosa di molto personale lo scrittore americano sceglie di incarnare il male in una creatura muta forma di origine aliena di nome appunto IT che non è l'ET di Spielberg attenzione è completamente diverso è lui che minaccia la famosa piccola community di Derry che poi è Bangor e i suoi abitanti arrivato con un'astronave IT è un Malia una creatura capace di incarnare le paure di ognuno di noi e questo terribile essere può trasformarsi in un clown un lupo mannaro un lebroso in un gruppo di fantasmi di bambini affogati un enorme uccello predatore un lavandino sanguinante un occhio con i tentacoli una colonia di sanguissughe alate e la sua forma più terribile è quella finale di un gigantesco ragno allora dare forme diverse al perfido IT o IT come volete permette a King di spaventare ancora di più i suoi lettori allora da dove si è ispirato King? lo dichiara tranquillamente si è ispirato al racconto il modello di Pickman di Lovecraft ma aveva ben presente anche la creatura aliena che si insidia in corpi e forme diverse nel film La Cosa ve la ricordate di John Carpenter il tentacolare ragno finale è un omaggio alla terribile Shilob creata da Tolkien nel Signore degli Anelli allora IT è un mostro che ogni 30 anni circa si risveglia ciclicamente non voglio raccontarvi niente comunque questo ve lo dico nel sottosuolo di Derry dove vive si riposa nella zona delle fogne per combattere questo mostro i ragazzi dell'uomo